Ok, ho letto un capitolo per cui è giunto il momento del mio meritatissimo riposo. Vediamo un po' che posso fare oggi. Userò la ruota del porno. Ok, che fetish del piede sia. Non ci posso credere. Oh, porca zozza! Mamma, papone, Meg ha fatto delle foto porno. Cosa? Oh mio Dio, Peter, la nostra piccola si è data alla pornografia. Noi dobbiamo fermarla. Oh, porcacchio, quella è la versione animata di te e me che lo facciamo. Chi lo ha messo lì sopra? Non appena Meg passerà da quella porta, le dirò tutto quello che penso. Ciao, mamma. Ciao, papo. Ehi, sei stata di sopra tutto il tempo. Pensavo che tutti quei passi pesanti fossero di Junior Gorg in Fragger Rock. Ah, è questo che stavi pensando? Sì, certo. È quello che penso. Meg, sappiamo che fai foto porno per feticisti e la cosa deve finire adesso. Ti prego, non far finta di interessarti a me. Oh, meno male. Peter! Meg, noi teniamo a te e stiamo cercando di proteggerti. Mi prendi in giro? Se fino a ora non avete fatto altro che deridermi sul fatto che possa fare la modella. Beh, indovina, là fuori qualcuno pensa che io sia bellissima. Sono venuti a prendermi. Vado a una grande festa che hanno organizzato in mio onore. Meg, non oltrepassare quella porta o ne subirai le conseguenze. Oh, mio Dio! Non ci posso credere, mia figlia è una porno star! Oh, è una pornoattrice, cara. E non prendiamocela per i biglietti di auguri natalizio, ok, Lois? Peter, dobbiamo fare qualcosa. Meg è uscita per andare a una squallida festa porno. Ho l'impressione che in giro ci inviteranno sempre meno. Dobbiamo scoprire dov'è la festa e portare via Meg da lì. Sì, hai ragione. Ma che cosa succede? Per me è sempre come se fosse nata ieri. Signor Griffin, vuole tagliare lei il cordone? Sicuro! Bene, quello non era il cordone, ora ho una femmina. Ehi ragazzi, ma che succede? Ci serve il tuo aiuto per trovare Meg. Avrei apprezzato il fatto se prima mi aveste chiamato. È scappata di casa per andare a una festa fetish porno. Pensavamo tu sapessi dov'era, per via delle tue perversioni e tutto il resto. Festa fetish porno, eh? Coraggio, entrate. Fatemi scollegare da questo sito e provo a cercare Beavs. Mi dispiace, il wifi di Joe è lento oggi. Ah, sappiamo che fa schifo. Noi usiamo anche il suo cavo per la tv. Mi piace, Joe. Oh, finalmente. Ehi, c'è un sacco da fare. Tutte feste in Ginghi li vedo. Tutta gente di colore e tailandesi. Ok, questa è roba da Meg. Grande festa con dolci a scarpa. Dolci a scarpa? E cosa sarebbe? 50 ragazzi, un piede solo. Ostra che... Bene, signori. Prima di cominciare, cantiamo insieme l'inno nazionale giapponese. Smettete di fare ciò che state facendo. Sì, altrimenti... Quello laggiù indossano gli occhiali. Mamma, papo, che cosa ci fate voi qui? Te lo dico io, cosa ci facciamo. Proteggiamo la nostra piccola da un gruppo di omaccioni cattivoni a cui piacciono tanto i piedoni. Ascolta, Meg, a tua madre e a me dispiace di non averti valorizzata. Papà ha ragione, non devi fare del porno per sentirti apprezzata. Sul serio? Ma certo, Meg, noi ti amiamo tanto, tesoro, e tu meriti molto più di questo. Vi ringrazio. Possiamo tornare a casa? Sì, andiamocene da qui. Non così in fretta. Ho promesso a questi signori un piede. Che avete detto che succede dall'altra parte di questo telo? Non ha importanza, tu guardati Tower Heist. Quei due riescono a mettere a segno un colpo, ma per favore. Vi ringrazio tanto per avermi evitato di fare qualcosa che avrei rimpianto. Figurati, tesoro, noi ti amiamo e non vorremmo che ti succedesse mai nulla di brutto nella vita. Peter, abbiamo un grosso problema. Il mio piede si è ingrossato mentre guardavo Tower Heist.